Giovanni Califa, 14 anni, di gioiosa ionica, ha vinto la finale nazionale dei grandi festival italiani, svoltasi a Verona dal 4 al 6 gennaio scorsi, grazie alle sue doti canore e interpretative, sbaragliando i concorrenti e i vincitori degli altri festival provenienti da tutta Italia e rappresenterà dunque la Calabria nell'evento collaterale al festival di Sanremo. Insieme a lui, a casa Sanremo, ci sarà anche Elenia Mazzà, 15 anni, di Caulonia, che nella finale nazionale ha ricevuto una menzione speciale. Ad accumunare i due giovani calabresi è il proprio il festival Una Voce per lo Ionio. Ad accumunare i due giovani calabresi è il festival Una Voce per lo Ionio, che si conferma ancora una volta come una manifestazione in grado di fare emergere talenti. I due giovani artisti avranno ancora una volta la possibilità di mettere in evidenza le proprie doti canore artistiche su un palcoscenico importante e in una prestigiosa vetrina internazionale. Soddisfatto del risultato e del riscontro avuto dalla rappresentanza calabrese, il maestro Cristian Cosentino, patron e direttore del festival Una Voce per lo Ionio, che con impegno, sacrificio e costanza porta avanti un progetto musicale importante. In ogni edizione Una Voce per lo Ionio seleziona interpreti, ragazzi, bambini, band e cantautori, proseguendo poi con le audizioni per scremare i migliori cantanti, avvicinandosi all'epilogo con ulteriori selezioni, fino alla finale, nel corso della quale vengono proclamati i vincitori di ogni sezione. I inediti, interpreti, ragazzi e bambini. I due artisti, vincitori tra gli inediti e gli interpreti, vengono radunati a fine anno e coinvolti in stage formativi ed esibizioni musicali, nella finale nazionale dei grandi festival italiani, attività che permettono al Commissione Artistica, presieduta dal maestro Vince Tempera, nonché di assegnare delle menzioni speciali. Per questi c'è subito una prima vetrina, diventando protagonisti dei festeggiamenti di San Silvestro e Capodanno sul palco di Verona, in Piazza Bra, facendo parte del cast artistico insieme ai big della musica italiana. Poi, nel corso dell'anno successivo, verranno offerte altre opportunità per evidenziare le loro qualità. Fra queste, la prima è indubbiamente altrettanto importante, e la partecipazione a Casa Sanremo.